Sono la preside Carmela Maccarone del liceo Majorana di San Giovanni La Punta. Desideravo esplicitare meglio i benefici che il progetto MIS, attualmente anche in azione, presso questo liceo sta comportando in termini di ricadute positive per la didattica. I docenti dello staff d'istituto e della team digitale hanno e stanno continuando a lavorare la permanente per elaborare materiali utili per questa piattaforma che è a grande valenza sotto il profilo didattico e oltretutto costituisce un'importante base di preparazione per quella che è l'agenda dell'innovazione digitale che questo liceo intende promuovere, soprattutto valere sul progetto PNRR e sulla transizione digitale.